sa 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 ok allora ciao a tutti intanto prima di partire delle premesse si le slide hanno delle contenuti ai all'interno avevo tempo di fare altrimenti no non vi dirò quali sì quali no alcuni sono ovvi altri no il testo no il testo no anche se in realtà sono solo dei suggerimenti perché allora il tema è enorme e questo è un one on one molto veloce per farvi per darvi un'infarinatura dei termini delle cose che riguardano l'idroponica sono un agronomo botanico antani no ho fatto delle prove degli esperimenti qui al crunch lab negli anni a casa mia per cui parlo per prove ed errori quindi prendete quello che dico con un grano salis come si suol dire e quindi siccome abbiamo pochi minuti e le slide sono parecchie corriamo un attimino prima cosa cos'è l'idroponica l'idroponica è una tecnica di coltivazione che prevede il non utilizzare il terreno come substrato di coltivazione per le piante il terreno al minerali all'interno a tante cose anche molte cose biologiche all'interno per cui animaletti o residui di altri di ex animaletti o funghi e tante altre altre cosine che possono essere carine se usate in maniera intelligente ma non così banale e l'idroponica invece elimina tutte queste varianti e utilizza semplicemente un substrato inerte ovvero che non ha alcun effetto sulla crescita della pianta se non un ancoraggio meccanico e mette tutto quello che serve alle piante dentro l'acqua quindi permette di controllare in maniera un po più precisa l'ambiente di crescita delle piante cosa vogliono le piante appunto è innanzitutto vogliono l'acqua e mi sembra abbastanza banale tutte le gli esseri viventi la vogliono e quindi anche l'acqua anche le piante vogliono cosa vogliono i macronutrienti come per noi ci sono i carboidrati le proteine grassi le piante tendenzialmente vogliono azoto fosforo e potassio e la stragrande maggioranza dei fertilizzanti che troverete in commercio idroponico o meno sono fertilizzanti che hanno queste cose quindi npk e li trovate con un numero sotto 20 10 10 che vi dicono quant'è la la quantità di di azoto di fosforo e di potassio in base a questo poi vi regolate poi se mi diamo un'occhiata vogliono i micronutrienti non so come le vitamine per noi e qua scusate ci sono un sacco di soprattutto metalli o cose simili di solito nel terreno ce ne sono abbastanza nell'idroponica bisogna aggiungere alla soluzione di nutrimento non è non sono così critici per in realtà delle deficienze possono creare dei problemi avanza gravi tipo la foto che vedete a sinistra è una deficienza di molybdeno ci sono delle delle liste di se le tue foglie sono fatte così ti manca quest'altra questo 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 elemento però se usate dei prodotti abbastanza commerciali per per come fertilizzante di solito queste cose sono gestite in maniera abbastanza trasparente le fagi crescita delle piante sono tre fasi principali e poi a volte si ripetono a volte no dipende dal tipo di pianta però ovviamente il prima è la germinazione e quindi dovete piantare se volete però di solito per l'idroponica conviene piantare semino perché comincerà a fare le radici nel vostro substrato inerte invece se le andate a comprare in serra ve le venderanno con la terra quindi dovrete ripulirlo ed è una operazione abbastanza stressante per la pianta per cui piantare semino e farlo germinare step 1 step 2 la crescita vegetativa che è quando vedete proprio la pianta crescere in volume e poi arriverà un punto in cui la pianta decide è giunto il momento di riprodursi e quindi fare fiori e poi fare eventualmente frutti tutte queste frasi hanno delle esigenze parecchio diverse tra di loro sia in termini di trattamento che dovete dargli sia in termini di nutrimento varianti dei sistemi idroponici allora ci sono tre macro famiglia l'idroponica standard avete le radici immerse o comunque costantemente bagnate dalla soluzione nutritiva le piante si ancorano dei substrati inerti tipo lana di roccia o argilla e dopo vedremo questi sistemi vedete l'elenco ma adesso dopo ci passiamo tutti quanti quindi via l'aeroponica forse l'avete sentita nominare è molto simile con la differenza che invece di bagnare le radici in maniera diretta viene nebulizzata sia con ugelli alta pressione sia con fogger quindi a ultrasuoni e questa cosa aiuta a ossigenare le radici perché le radici devono respirare hanno bisogno di ossigeno anche se sono sottoterra di solito ma hanno bisogno di ossigeno in realtà il fatto di averle esposte all'aria sembra una buona soluzione per una soluzione infallibile per gestire l'ossigenazione in realtà spruzzare troppo troppa acqua nebulizzarne troppa può portare all'effetto opposto e saturare l'acqua e saturare l'atmosfera e anche quello può avere effetti negativi però questa variante è la più efficiente dal punto di vista dal punto di vista del consumo dell'acqua ed è quella utilizzata per le applicazioni un po più estreme tipo nella stazione spaziale internazionale provano queste cose qua l'acqua ponica invece all'opposto è una soluzione diciamo un po più frichettona ed è letteralmente idroponica normale con la differenza che invece di gestire in maniera molto cauta e manuale i nutrienti nell'acqua si utilizza un mix tra idroponica appunto e acquacoltura in cui i pesci nella vasca nel serbatoio dell'acqua idroponica con le loro deizioni diciamo danno i fertilizzanti per le piante le piante a loro volte invece filtrano l'acqua e dovrebbe essere un sistema in cui entrambi hanno giovamento diciamo sono cose che forse queste sono più a livello industriale questa cosa non si fa però o meglio non ho notizia però può essere carino a livello casalingo diciamo anche per una sensazione di naturalezza se vogliamo che di solito nell'idroponica viene un po persa allora sistemi più comuni di idroponica li avevo elencati prima adesso andiamo uno per uno allora ce ne sono molti altri ce ne sono tantissimi vi presento i quattro più comuni e più utili per voi se volete iniziare a fare degli esperimenti allora quello più non è basic perché non è il più semplice però è il più comune troverete più documentazione si chiama nutrient film tecnica come potete vedere dallo schemino c'è un serbatoio con una pompetta e l'acqua viene mandata all'ultimo piano delle piantine e bisogna far scorrere un leggero straterello di acqua di alcuni millimetri e deve semplicemente lambire le radici delle piante per cui diciamo c'è un flusso continuo di acqua che dall'ultimo piano un po alla volta cade giù e poi ritorna al serbatoio e lì il ciclo ricomincia drip a gocciolamento e forse è quello che un po tutti hanno in mente quando pensano all'idroponica ed è simile al precedente con l'unica differenza che tecnicamente non va gestita la lo strato di acqua in spessore ma semplicemente si va a irrigare l'apparato radicale dall'alto e poi il substrato trattenendo un po di umidità farà in modo che la pianta abbia a disposizione tutti i nutrienti è facile e probabilmente è una buona idea per cominciare questo il sistema diciamo a miccia a stoppino in cui abbiamo un sistema per distribuire la soluzione generalizzato di solito magari per una serra un po più grande abbiamo delle canalizzazioni e invece la parte in cui la pianta cresce per cui la parte inerte è sopraelevata e utilizza appunto degli stoppini che per capillarità raccolgono la soluzione e la portano verso la pianta questa questa cosa qui è un po complicata da gestire forse ha bisogno di un po di adattamenti raffinatezza tecniche però è una cosa che vi permette di creare dei grandi orti idroponici perché gestire la distribuzione dell'acqua è più semplice e poi potete cambiare spesso volentieri la coltivazione su varie postazioni e questo è quello che per me è il metodo più elegante di tutti ce ne sono due sono due varianti una è deep water e l'altra è kratky che è il nome di un professore che si è inventato questa questa soluzione e sembra contro intuitivo perché forse uno dei luoghi comuni è che l'acqua non deve essere stagnante nelle coltivazioni idroponiche e invece qui l'acqua è stagnante e quindi si mette la piantina all'interno si fa toccare all'interno di un contenitore si mette la piantina in modo che con le radici tocchi appena la soluzione in varie maniari con dei galleggianti o con delle rettine e poi nel sistema deep water si utilizza un areatore per acquari e si fa gorgogliare all'interno della soluzione per ossigenare l'acqua e quindi impedire che le radici soffrano della mancanza di ossigeno nel sistema kratky è ancora più semplice perché nel calcolare la dimensione del contenitore si fa in modo che il consumo d'acqua della pianta nel tempo crea lo spazio in aria per far respirare le radici immaginate questo bidone all'inizio della crescita della piantina aveva l'acqua praticamente a livello del coperchio crescendo la piantina man mano consuma l'acqua che scende le radici crescono verso il basso e ha una specie di parte in testa del bidone in cui non c'è più acqua c'è aria e in quel punto le radici possono respirare quindi è una cosa totalmente passiva questa questo genere di coltivazione di arponica se si riesce a gestire è molto elegante anche da soddisfazione perché la crescita è come negli altri però il lavoro che ci mettete è minimo vedete questo è quello con la pompetta per l'acquario queste di solito sono piantine che hanno una retina con galleggiante per rimanere sempre a livello della superficie dell'acqua i su strati il più comune di tutti è la lana di roccia che di solito viene venduta in questi cubettini appositi il cubettino più piccolo è quello dove la fate fate germogliare le piantina e quello quello più grande dopo dove lo andate a installare in un vostro sistema idroponico è la più comune di tutte la trovate in ogni negozio forse anche in un specializzato in idroponica ovviamente ha delle questioni ambientali da gestire non usate quella per edilizia perché dentro c'è delle robe cattive per le piante la fibra di cocco è una cosa che va molto di male attualmente è lo scarto esterno delle noci di cocco quando vengono usate per fare latte panna acqua tutte quelle cose la è biodiagradabile in teoria non è proprio totalmente inerte però lo è abbastanza per la coltiva per delle coltivazioni abbastanza veloci e trattiene molta acqua per cui è positivo da questo punto di vista perché vi dà una certa stabilità al sistema soprattutto in caso di malfunzionamenti altri substrati di solito sono minerali di vario genere argilla e vermiculite perlite e usati da soli non vanno molto bene perché non trattengono molto l'acqua e quindi di solito vengono usati in una miscela con la fibra di cocco che abbiamo visto prima anche per abbassarne un po il costo strumenti che vi servono per cominciare allora due strumenti che vi servono e non si può fare a meno sono il ph metro e l'ecimetro cioè la conduttività elettrica dell'acqua il ph metro vi serve perché le piante hanno un ph target da rispettare quindi poi con con delle soluzioni potete regolarlo e l'ecimetro vi dice più o meno vi stima la quantità di nutrienti all'interno della soluzione a cosa che le piante mangiano e bevono serbatoi allora io ho messo questo qua che forse è veramente grande però un consiglio che vi devo dare usate serbatoi grandi per due motivi perché la temperatura all'interno del serbatoio di un serbatoio grande tendenzialmente è un po più stabile e poi perché le piante in realtà crescono velocemente possono bere parecchio e quindi vi stupirà quanto piccolo può essere un serbatoio che pensavate a essere sufficiente quindi esagerate pompe se il sistema che volete usare tipo drip lo prevede pompe da acquario da da quel che volete sono sono di tutti i tipi chiller dipende dove volete fare la vostra coltivazione idroponica se forse la fate indoor non è così fondamentale se la fate in esterna in estate è abbastanza importante avere qualche tipo di raffreddamento perché le radici non gradiscono la temperatura troppo alta e poi ci possono crescere cose dentro quindi meglio tenere la soluzione fresca se invece stiamo in indoor le lampade delle lampade non vi dico troppissimo se non che adesso vanno tanto quelle a led e va bene le foglie delle piante sono verdi perché riflettono la luce verde quindi le altre gli altri due componenti della luce vengono assorbiti tendenzialmente e quindi le vedete rosse e blu di solito la percentuale di rosso la percentuale di blu di solito viene gestita in base alla fase di crescita come dicevo prima fase vegetativa e fioritura io non ho mai avuto un'esperienza diretta con con la coltivazione indoor per cui non vi so dire molto da questo punto di vista ma penso che per chi vuole coltivare pomidori come abbiamo detto all'inizio ci siano un sacco di documentazione in tema sensoristica a parte l'automatizzare un attimino la lettura dei valori di ph ec a volte è importante anche avere contezza delle temperature dell'umidità dell'ambiente in cui alla pianta perché spesso volentieri le piante idroponiche sono un pelino più sensibili di quelle normali e quindi avere un grafico di quello che è successo può aiutare a capire cosa succedendo grow box sempre per i pomidori come potete vedere di solito è la soluzione principale perché ci possono mettere dentro dei filtri a carboni attivi per evitare che il vicino senta troppo odore di pomodori e aiuta anche a mantenere un'atmosfera controllata appunto come dicevamo di umidità e temperatura mi ricordo allora siamo all'esc vi ho detto le cose cosa serve prima immagino che possiate mettere tutto quanto assieme e automatizzare un attimo il discorso e questa è una cosa che probabilmente ognuno fa da sé ed è un gusto che nessuno vuole togliervi vantaggi e svantaggi allora le coltivazioni idroponiche hanno maggiore rese sicuramente sicuramente crescono molto più velocemente e se torniamo un attimo indietro vediamo avevo questa la pianta a sinistra era idroponica la pianta a destra era su terra sono state piantate nello stesso momento e quindi già vedete la differenza di velocità di crescita ma hanno una foto da questo punto di vista ma anche come quantità di produzione di solito di frutta o quel che volete voi è superiore la qualità dipende dipende da che nutrienti usate da come gestite le piante in realtà perché non è garantita così come nell'orto normale non è detto che i vostri ortaggi vengono sempre tutti molto buoni anche in idroponica non dipende dal da quello tendenzialmente però se voi fate le cose fatte bene in idroponica il risultato è potenzialmente più buono maggiore risparmio idrico ovviamente potete coltivare tutto l'anno in indoor crescita molto veloce riduzione di parassiti e malattie perché non abbiamo a che fare con i terreni allora dicevamo riduzione di parassiti e malattie perché eliminando il terreno togliamo la principale fonte di questi problemi in realtà gli insettini che volando arrivano sulla vostra pianta ci possono essere lo stesso però quelli vi legistete con una retina oppure in indoor e c'è un po di fischio forse ok e quindi molte piante ad esempio soffrono di problemi fungini per dal terreno proprio magari anche irrigando le goccioline di acqua rimbalzando portando del materiale sulle foglie fanno ammalare l'intera pianta per cui questo è un problema risolto mi sembra molto chiaro che questa immagine sia stata generata come potete vedere dall'incapacità di scrivere in maniera corretta ma non importa ok sì i sistemi aeroponici costano di più che fare che scavare una buchetta in giardino e piantarci la pianta dentro quindi è un investimento da fare se volete divertirvi a fare questa provare a fare queste cose qua va contenuto in considerazione pompe luci chiller richiedono a volte molta energia elettrica soprattutto in estate per il chiller consuma un sacco di watt quindi anche questo da valutare soprattutto in ottica se volete farlo per sentirvi più green perché il vostro consumo d'acqua è più basso in realtà se l'energia che usate non è da fonti rinnovabili magari è una cosa da considerare temperature è uno dei problemi più grossi di tutta la coltivazione idroponica bisogna gestire le temperature la 90 per cento delle problemi che avranno le vostre piante saranno legati a temperature errate si è ovviamente l'ambiente esterno tenterà in ogni maniera di rovinarvi il giochetto per cui mandandovi magari in estate giornate da 40 gradi oppure a me è capitato il riflesso di una finestra vicino che scaldò il serbatoio in maniera particolarmente eccessiva per cui insomma mancanza di ossigeno alle radici come dicevamo nel dvc e nel kratki può essere un problema perché un sistema passivo senza ricircolo dell'acqua in caso di problemi pompette d'acquario e quello che avete nella foto è quello che succede alle radici se manca l'ossigeno ovvero marciscono e prendono questo simpatico color brunito e si chiama root rot ovviamente vuol dire radici marcescenti però insomma ok dopo un po di utili dopo un buon tempo di utilizzo alla soluzione nutritiva che magari avete creato nel vostro mega serbatoio all'inizio della coltivazione con un ricircolo potrebbe accumulare diciamo che le piante potrebbero utilizzare non tutti i nutrienti nella stessa maniera e potreste avere dei disequilibri nel rapporto appunto tra tutti i nutrienti all'interno della soluzione a volte arrivate al momento in cui non c'è niente da fare magari la togliete la date alle altre piante nel giardino normali con la terra perché tanto male non li fa e dovete farla ex novo e quindi c'è un po di spreco soprattutto se volete fare coltivazioni particolarmente lunga pure con piante che non hanno un ciclo stagionale guasti tecnici è bellissimo come la i si sia pensato che se deve fallire un sistema idroponico debba andare a fuoco la pentina così però tutto quello che non c'è non si può rompere siccome noi stiamo aggiungendo molte cose molte cose si possono rompere e quindi è vero che magari la manutenzione quotidiana è più bassa di un orto in ottimazione normale però bisogna stare attenti bisogna fare un po di check continuo che tutto sia ottimale e ultimo problema forse forse quello più rognoso di tutti e sono i problemi microbiologici se la vostra soluzione è troppo calda ma in realtà basta anche sbagliare un attimino la sanitizzazione dei tubi dei vasi è semplicissimo contaminare il sistema e vi ritrovate con tanta puzza e ag e batteri fanno biofilm fanno cose così sulla superficie e poi eliminare queste cose qua è erogneosissimo bisogna sanificare con ipoclorito di sodio a go go e cose del genere per cui insomma può essere e può essere anche difficile avere successo nel sanificare un sistema idroponico per cui questa è una cosa se volete provare da subito siate super molto puliti diciamo se avete mai provato la produzione di birra o simile ci vuole un livello di cura paragonabile quindi lo faccio io mi sono divertito a farlo sono un po di anni che faccio diversi esperimenti mi sono divertito molto ho speso molti più soldi di quello che avrei speso per ottenere le cose in altra maniera o comprandole direttamente però siamo qui per il divertimento e quindi se se la cosa vi intriga provate ho perso dentro il microfono quindi uso questo that's it dov'è eccolo eccoci allora veloci domande perché siamo un po tirati coi tempi Marco domanda da 100 milioni e le persone che hanno poco spazio riescono a fare una cosa di questo genere secondo il tuo modesto giudizio si però comunque fai conto che il minimo della pena secondo me vediamo se trovo la foto giusta è più o meno questa la dimensione che devi impegnare minimo il sistema più piccolo che puoi fare è più o meno un bidone di questa dimensione qua se poi tu vuoi fare un sistema drip o altre cose comunque te la giochi sulle stesse dimensioni per cui diciamo un mezzo metro quadro glielo devi dedicare quantomeno sulla tua terrazza perché se poi cominci a voler mettere le luci per la coltivazione indoor eccetera il volume anche comincia a crescere per cui si puoi farlo con dei limiti grazie altre veloci domande forse ancora tempo per una già risposta allora grazie a bicho per aver condiviso la tua conoscenza ed esperienza e un grande applauso per lui grazie